bentornato gutler bentornata ora continuando nella descrizione di windows 10 andiamo a parlare di reti private virtuali o vpn virtual private network cosa sono sono delle connessioni particolari che consentono di connetterti tramite internet ad utenze remote che sono predisposte a ricevere questo collegamento in altre parole potresti avere un'utenza casalinga o in ufficio o in qualsiasi altra parte a cui puoi collegarti da qualsiasi parte del mondo per attingere a risorse presenti nella stessa la connessione all'utenza avverrà in maniera criptografata sfruttando un effetto tunnel tipico di questa connessione di questo protocollo che sarà instradato appunto sulla rete internet tramite una vpn puoi anche nascondere la tua identità come effetto collaterale e forse anche ben importante tutta la tua attività che svolgerai su internet così potrai tutelare la tua privacy una volta realizzata la connessione il traffico dai per il tuo dispositivo verrà dirottato tramite il server vpn che impiegherai il quale criptografando la trasmissione dei dati appunto accelererà i tuoi dati i dati trasferiti il sito web o servizio destinatario del tuo traffico non potrà quindi risalire alla fonte dello stesso ma solo fino al server vpn che avrà impiegato gli effetti collaterali potrebbero essere una minor velocità della navigazione se ad esempio i server sono molto lontani dal tuo dispositivo oppure dei limiti di banda imposte dal fornitore del servizio se magari hai dei piani gratuiti il luogo di quella che hai a pagamento per la vpn oppure dei banner pubblicitari più o meno invasivi opzioni delle impostazioni limitate diversi tra i vari piani forniti e altre possibilità ultima ma non meno importante la sicurezza della navigazione immaginerai che non tutti i fornitori attuano dei servizi moralmente impeccabili nella migliore delle ipotesi negativi l'analisi della tua navigazione potrebbe essere monitorata scopi di profilazione marketing nella peggiore chissà quindi la ricerca della qualità è la componente più difficile da verificare come realizzi una vpn ci sono varie possibilità in base alle tue esigenze sfruttando programmi di terze parti che in maniera automatica creeranno l'effetto tunnel privato per la navigazione che ti permetterà di raggiungere il servizio che dovrai utilizzare scarichi il programma lo installi l'ovvi inserisci eventuali credenziali per l'accesso al tunnel e navigherai alternativamente impieghi dei servizi online creando un accanto o ancora sfruttando delle funzionalità che hanno alcuni browser diciamo abbastanza semplice però se devi raggiungere una ben definita utenza non è praticabile questa strada ecco che dovrai creare e configurare manualmente una rete privata virtuale alla quale ti dovrai collegare prendiamo in considerazione quello che ci offre il sistema operativo windows 10 è importante fare una promessa per poter accedere a una vpn un server vpn ci collegheremo alla stessa tramite il suo indirizzo ip se questo indirizzo è variabile nell'arco delle ore dei giorni eccetera ci creerà dei problemi soprattutto se la variazione non dipende da scelte nostre ma dal fornitore di servizio a cui ci appoggiamo per l'accesso ad internet immagina se volessi inviare una lettera ad un tuo amico una tua amica e lui o lei continuamente cambiasse residenza senza che te lo notificasse scritto questo per dire che se creiamo un server vpn privato e a questo serve ci dobbiamo collegare il remoto dalla nostra postazione dobbiamo assegnare a questo server vpn un indirizzo pubblico ben definito che sia statico se il nostro fornitore non può assegnarcelo gratuitamente oppure a pagamento dobbiamo riferirci a terze parti su internet puoi trovare delle aziende che possono forniti un indirizzo ip statico in maniera gratuita oppure sotto forme di pagamento ne ci dirò giusto un paio uno dell'azienda di link e l'altro no ip.com tra breve comprendere meglio perché è necessario un indirizzo ip statico quando vuoi creare un collegamento ad un server vpn dal tuo computer dovrai cliccare sul pulsante delle impostazioni e da qui individuare il pulsantone rete ed internet in questa sezione nella colonna di sinistra individua vpn e cliccaci sopra trovi due pulsori 1 consenti vpn tramite rete a consumo e l'altro consente vpn e roaming questi sono da prendere in considerazione nel caso in cui hai connessione a pagamento infatti abilitando il primo cursore sfrutterai anche il traffico dati di connessione vpn decurtandolo dal tuo credito dati quindi della connessione mentre il secondo se vorrai attivarlo effettuerà ciò anche per il roaming quindi in sintesi fai attenzione ai costi la parte operativa di questa sezione è il pulsante di sopra aggiungi connessione vpn quindi ci accingiamo a creare una connessione ad un server in giro per il mondo per creare una connessione da questo dispositivo verso un server vpn cliccaci appunto sopra si apre una nuova sezione che dovrai compilare qui vari campi nel campo provider troverai il nome windows predefinito in quanto stai utilizzando risorse di windows 10 e non un programma di terze parti nel campo sotto nome connessione scegli pure un nome che ti piace oppure un nome che dà riferimento alla vpn a cui ti collegherai nel caso in cui dovessi collegarti a varie vpn e quindi creare diverse connessioni ed ecco il punto cruciale a cui mi riferivo poche righe sopra per l'indirizzo ip statico in questa sezione nome o indirizzo server nel campo appena descritto dovrà inserire l'indirizzo ip numerico se lo conosci del server vpn a cui ti collegherai e dovrà essere sempre lo stesso per ogni connessione a tale server quindi non dovrebbe cambiare perché se dovesse cambiarci ci crederebbe poi qualche mancanza di connessione naturalmente qualcosa del tipo 180 punto 2 4 0 punto 5 punto 12 ma giusto per scrivere dei numeri a casa insomma questo numero se fosse una postazione di un'azienda tutto sommato non sarebbe difficile da ottenere ma nel caso in cui dovessi configurare il tuo pc di casa come server potresti avere dei problemi proprio perché il fornitore di servizi di accesso ad internet non offre questa opzione di default quindi se non lo puoi ottenere in maniera diretta dovrà impiegare degli stratagemmi e rivolgerti ad aziende che possono venire incontro alle due esigenze creando un account ad esempio tramite l'azienda di link potrai ottenere una stringa del tipo test punto di link di dns punto com oppure tramite altre aziende che offrono tali servizio comunque otterrai un nome di fatto un indirizzo un url questo indirizzo dovrai inserirlo appunto nel campo nome o indirizzo server nel campo invece tipo vpn devi selezionare quale protocollo impiegherai nella connessione puoi lasciare automatico ed il sistema avvolterà il tipo di connessione oppure scegliere dal menu a tendina quello che ti si presenta senza interessarci troppo nei tecnicismi del protocollo e le funzionate gli stessi diciamo che ad oggi il protocollo ppt è il più semplice nell'utilizzo ma è un po vecchio e non vuote di buona sicurezza quindi abbastanza obsoleto ma tutto sommato ancora funzionante il secondo l2tp slash ipsec è il suo successore in termini di sicurezza e che puoi utilizzare se vorrai una maggiore rigidità nella sezione ci ne sono anche altri ma lascio a te il tempo e la voglia per informarti sui tipi di protocollo ora il tipo di accesso tipo di informazione di accesso in questa sezione se non hai alternative come lettore e smart card oppure password ma non uso l'otp per capirci oppure un certificato di sicurezza da fornire al protocollo per la connessione allora seleziona i più classici nome utente password che dovrai digitare appunto nei campi successivi che troverai scorrendo la barra di lato a destra terminato tutti i campi da compilati salva e chiudi la finestra ora tornerà alla sezione precedente troverai il pulsante della connessione appena creata sotto questo pulsante troverai altri dei pulsanti connetti opzioni avanzate e rimuovi il primo pulsante ti serve per realizzare una connessione appena creata al server VPN quindi cliccandoci sopra si avvierà la connessione il secondo ti rimanda alla sezione che ti consente di modificare i parametri poco inseriti e l'ultimo rimuove la connessione qui appunto la sezione di modifica con il pulsante modifica dei dati appena inseriti quindi il pulsante connetti che si presenta lo troverai anche nella SIS3 in basso a destra e cliccandoci sopra accederai alla lista delle connessioni e in particolar modo alla connessione VPN che hai creata per accedere ad un server VPN in giro per il mondo cliccandoci sopra Windows tenterà la connessione al server VPN e se hai inserito i parametri correttamente ed il server è raggiungibile quindi il server acceso è funzionante otterrai l'accesso al dispositivo oppure alla rete se dovrai accedere ad una rete privata durante il tentativo di accesso potranno anche essere richieste le credenziali di accesso al server che possono essere specifici in base al tipo di server a cui andrai ad accedere di norma sono nome utente e password ora realizzata la connessione non dovrai fare altro che aprire le risorse del computer o esplora risorse a secondo di come lo vogliamo chiamare nella sezione rete quindi troverai la lista delle risorse che quel server VPN ti metterà a disposizione quindi il server VPN avrà messo in condivisione risorse software o hardware e quindi potrai cliccandoci sopra entrare nell'impiego dello stesso che possono essere programmi o anche hardware come stamparti o altro a questo punto hai configurato e realizzato una connessione ad un server VPN tramite Windows 10 se non dovessi riuscire ad accedere al server VPN supponiamo che non sia un'azienda ma un computer privato potrebbe essere necessaria la verifica che siano aperte le relative porte del traffico in ingresso allo stesso quindi dovrai attingere alla configurazione del tuo router che ahimè cambia da router a router oppure interagire con le regole firewall del sistema privato per abilitare una regola per permettere il traffico in ingresso tramite router e tramite firewall alla tua postazione al tuo server VPN un'ultima cosa di ottimizzazione se accedi ad una VPN dovresti cambiare un'impostazione nelle connessioni non è tanto importante ma come dicevo è un'ottimizzazione nella sezione proprietà della connessione vai nel dettaglio e individua il protocollo TCP IP4 e ancora nella sua proprietà entrerai in questa sezione quella che ti permette di cambiare anche gli indirizzi DNS da qui troverai il pulsante avanzate cliccandoci sopra entrerai in questa nuova finestra qui dovrai deselezionare il segno di spunta che trovi nella scritta USA Gateway predefinito sulla rete remota questo perché se ti connetti alla rete VPN al server VPN il tuo traffico togliendo quel segno di spunta verrà diviso dal tuo dispositivo uno diretto verso il server VPN e quindi potrai impiegare le risorse hardware e software presenti all'interno del server VPN se invece ti dovrai collettere ad internet tu dal tuo dispositivo entrerai direttamente ad internet per la normale navigazione tramite ricerche, connessioni social, messaggi ecc se non dovessi togliere quel segno di spunta tu accederai ad internet passando dal server VPN con i benefici e le problematiche del caso quindi se dovrai connegarti ad internet è sempre meglio connegarti direttamente tramite il provider e non tramite il server VPN allora, eccoci in zona pratica andiamo a vedere come configurare un collegamento ad un server VPN andiamo sempre nella zona delle impostazioni clicchiamo sul pulsante rete ed internet e individua la sezione VPN questi due pulsanti come detto prima durante la parte teorica sono relativi ai consumi quindi in questo caso se selezionato e hai una connessione a consumo il traffico VPN sia nazionale che in roaming avverrà sfruttando il tuo traffico dati quindi potresti deselezionarlo se hai un'attività di connessione a consumo entrando nel dettaglio della connessione cliccando sul pulsante aggiungi connessione VPN entreremo in zona configurazione per la connessione VPN in questa sezione trovi appunto Windows predefinito perché stiamo utilizzando Windows 10 il nome della connessione la sceglierai tu puoi dare un nome che a te più piace lo chiamiamo test decudri poi nome ed indirizzo server ecco qui il piccolo problema se tu hai la necessità di connetterti ad una rete aziendale sarà il responsabile amministratore di rete e della sicurezza di quell'azienda che ti fornirà l'indirizzo a cui ti potrai collegare quindi dovrai scrivere qualcosa del tipo 180 240.5.13 oppure nel caso in cui ti dovessi collegare ad una tua rete privata quindi non hai questo indirizzo numerico dovrai come detto far uso di aziende di terze parti e avrai una stringa del tipo di link di dns.com se stai utilizzando l'azienda di link o qualsiasi altra azienda che possa fornire questa possibilità in forma gratuita o a pagamento comunque detto questo tu otterrai un identificativo equilibrabile a un indirizzo url e lo scriverai qui nella sezione tipo di VPN o lasci in automatico e il sistema individuerà il protocollo che di volta in volta verrà impiegato per ogni tipo di connessione oppure dal menu a tendina potrai scegliere l'uno o l'altro protocollo qual è la differenza è che selezionando tu il protocollo devi avere la certezza che il server VPN abbia abilitato e funzionante quel tipo di protocollo altrimenti durante il tentativo di connessione non realizzerai tale connessione quindi potremmo senz'altro lasciare automatico ricorda che il PPTP è diciamo vetusto e suscettibile di poca sicurezza mentre il più sicuro è senz'altro l'L2TP subito sotto ma lasciamo come detto in automatico tipo di info e di accesso potrai selezionare o un nome utente e password tra i più classici oppure se hai il lettore e smartcard integrale potrai utilizzare questo tipo di accesso o se hai una one time password una password monouso tipo token potrai selezionare questa scelta di accesso oppure se possiede un certificato digitale crittografato di norma utilizziamo nome utente e password nome utente e password che verrai ad inserire qui che potrebbe essere il più semplice administrator oppure se lo avrai configurato tu potrebbe anche essere un nome di tua più libera scelta e qui potrai digitare una password che potrai visionare cliccando su questo pulsante in questi due campi è facoltativa ma se il server VPN richiederà l'accesso tramite nom utente e password all'atto del tentativo di connessione dovrai senz'altro inserire questi due campi se selezioni il segno di spunta memorizza le mie info non ti verranno chiesti questi due parametri se lo deselezioni all'atto della connessione potrai aver richiesto queste informazioni salviamo a questo punto i parametri inseriti e noteremo il pulsante appena creato cliccandoci sopra otterrai tre pulsanti cliccando su rimuovi avrai la richiesta di conferma per rimuovere la configurazione appena creata opzioni avanzate ti rimanda ad un'altra pagina che ti va a cancellare le informazioni di accesso oppure andarle a modificare di nuovo nella pagina precedente ed infine il pulsante connetti che avrai nella zona sys tray nella lista delle connessioni che ti fornisce l'accesso ad internet o ad altre reti il pulsante connetti come detto lo troverai anche in questa sessione sarà sufficiente cliccarci sopra e potrai inserire il tuo nominativo e la password che avrai precedentemente scelto per accedere alla rete potrai visionarla prima di realizzare la connessione e cliccando su ok avvierai il tentativo di connessione dell'accesso alla rete ovviamente dato che io attualmente non ho configurato alcun server vpn né privato e non sto tentando di connettermi ad alcun server vpn di un'azienda o qualsiasi che esso sia otterrò il risultato di mancato accesso a questo server come vedi è stato impossibile realizzare la connessione remota perché naturalmente non esiste alcun server con i parametri inseriti a cui dovrei collegarmi eventualmente tu avresti configurato tutto bene ricordati che eventuali problematiche possono essere relative al tuo router o al tuo firewall quindi ti rimando alle guide specifiche del router che stai utilizzando per la connessione ad internet e alla rete all'interno del quale dovrai aprire le porte relative alla connessione per entrare in quel server naturalmente questo se sei tu l'amministratore di quel server vpn un'ultima nota di ottimizzazione come dicevamo prima in fase teorica dovrai entrare nelle impostazioni delle connessioni presenti perché dovrai cambiare una piccola opzione all'interno delle connessioni vai ad individuare il protocollo tp4 entrano nelle proprietà e nella zona avanzata vai a togliere il segno di spunta su usa gateway predefinito sulla rete remota dando ok e in questo caso potrai quindi realizzare la connessione al server vpn ed esplorare le risorse direttamente all'interno della sezione rete qui avrai popolate le risorse hardware e software che verranno messe in condivisione dall'amministratore di rete mentre se vorrai navigare tranquillamente ad internet anche se sei connesso al server vpn navicherai direttamente senza fare il doppio passaggio server vpn uscita verso il mondo internet bene nella prossima lezione ti parlerò di indirizzi ip statici pubblici ora con sempre un forte saluto ciao presto a carlo e alla prossima ciao